ciao a tutti allora in questa giornata maggior ragione che siamo a casa guardiamo tanto Netflix film pc lavoriamo in smart working gli occhi si gonfano abbiamo più borse più occhiaie più segni di stanchezza e quindi vediamo come prenderci cura del nostro contorno occhi a pelle pulita vado ad applicare un'essenza specifica per la zona pericolare che sarà decongestionante idratante una sorta di tonico per gli occhi semplicemente col dito lo vado a spalmare lungo tutto la zona ha un bello effetto rinfrescante vi consiglio una volta applicato di usare l'anulare che è il dito che effettua meno pressione dopodiché è utilissimo applicare una maschera decongestionante e andiamo ad applicare lungo tutta la zona pericolare bassa e lungo tutta la zona dell'arcata sopraccigliare evitiamo sempre la zona della palpebra mobile perché se per sbaglio un prodotto finisce lì può dare origine allergie o fastidi la lasciamo in posa in strato spesso e una cosa che possiamo fare durante la posa è utilizzare un qualsiasi tool tenuto precedentemente in frigorifero che vada non soltanto ad attivare la maschera ma stimolare la circolazione andiamo a lavorare con movimenti verso l'esterno e con movimenti dall'alto per stimolare la tonicità dell'arcata sopraccigliare una volta eliminato il residuo della maschera quindi sciacquata andate ad applicare un contornocchi globale la scelta del contornocchi dipende da voi e dalle vostre esigenze se siete scegliendo un prodotto per borse occhiaie piuttosto che un contornocchi per rughe rughette soichi o addirittura un contornocchi globale appunto che faccia tutte queste cose insieme una volta applicato il contornocchi quindi sempre evitando la zona della palpebra mobile a meno che non sia specificato sulla confezione che può andare in quella zona col polpastrello andiamo a creare delle piccole pressioni che dall'interno vanno verso l'esterno e sempre in sollevamento nella parte dell'arcata sopraccigliare possiamo inoltre disegnare dei piccoli otto nella zona delle potenziali zampe di gallina per far sì che aiutare insomma a trattare questo piccolo in estetismo e lavorare anche in drenaggio della zona quindi in questo modo in questo modo abbiamo fatto un trattamento completo per il contornocchi che ci aiuta proprio a fare tutto quello di cui questa zona così delicata ha bisogno spero di quale di esservi stata utile e un bacione